Siamo a Grottamare, un convegno assolutamente interessante che sta facendo partecipare i più importanti direttori delle testate italiane che si occupano ovviamente di religione. Secondo lei, con questo titolo sicuramente di grande appile, quale potrebbe essere l'eitmotive per aumentare la partecipazione? Sicuramente i partecipanti a questo convegno hanno molto interesse a confrontarsi tra loro, esprimono la diversità di tante diocesi italiane, di tante regioni e nello stesso tempo questo confronto porterà sicuramente a scambiare le buone pratiche tra di loro. Questo convegno quindi porterà dei benefici mutui alle singole testate attraverso il confronto dei partecipanti. Pellegrini nel cyberspazio, questo tema secondo lei è nuovo oppure già cosa abbastanza vecchia visto che ormai l'online è abbastanza di moda? No, è già un tema di cui si discute da tempo però è sempre un tema attuale perché come settimanali cattolici indubbiamente ci dobbiamo confrontare con queste due realtà. Il cartaceo che fa parte del nostro passato e l'online che fa parte dell'attuale e anche del futuro. Dove vanno i pellegrini? Allora, l'oggetto di questo convegno secondo lei è sia o no in linea con quello che oggettivamente oggi il pellegrino richiede? Questo convegno forse ci ha anche un pochino disorientati, parliamo di nuove tecnologie, di nuove frontiere, sicuramente ci siamo messi in contatto in rete tra di noi ma abbiamo anche tanta confusione in testa. Brevemente un'idea per far sì che questo tema sia ancora più di attualità? Beh, è quello di integrare le due realtà, il cartaceo con l'online, è quello che i settimanali cattolici stanno cercando di fare da tempo anche se in questi giorni si discute se addirittura non sia meglio a questo punto separare le due realtà e viaggiare su strade diverse. Comunque siamo pellegrini nel mondo digitale quindi siamo in cammino. Quindi possiamo applaudire ovviamente a questa organizzazione perché sta lanciando o meglio sta iniziando veramente un percorso che questo pellegrino in questi casi il direttore del giornale dovranno percorrere per essere veramente al passo con i tempi. Non possiamo più fare a meno di essere in questo mondo, di essere pellegrini di questa nuova realtà. Grazie a tutti. Perfetto, come sa brevemente è il primo congresso. Secondo te la partecipazione è stata oggettivamente attiva o piuttosto invece discreta? Secondo me è stata abbastanza discreta la partecipazione, tuttavia non bisogna sottovalutare i rapporti che si creano dietro le quinte, nei dialoghi, nei momenti apparentemente morti dove invece si può scambiare più di un'opinione interessante ed utile. Quindi lanciamo un messaggio, mi raccomando partecipate al secondo meeting il prossimo anno che sarà sicuramente a Grotta Mare. Per tenere testa all'avanzare della tecnologia sicuramente sono degli ottimi appuntamenti e ci auguriamo una partecipazione ancora maggiore l'anno prossimo. Quindi diciamo che quanto mai è più opportuno un approfondimento perché sicuramente le testate hanno bisogno ancora di più formazione, di più know-how per poter poi approcciare a questo mondo ripeto che secondo lei è sconosciuto e quindi essere più online nei confronti del pellegrino e del vostro lettore, corretto? Sì, sicuramente. Questo incontro è veramente una novità, una cosa importantissima. Ci siamo inizialmente disorientati ma il fatto di confrontarci insieme è motivo di grande speranza e anche ci proietta proprio in queste nuove tecnologie.